Hanno raggiunto quota 3.025 casi accertati di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, a fronte di un incremento di 15 unità rispetto a ieri. Secondo il report quotidiano della protezione civile, nell'area triestina si contano 1.252 infettati, in quella udinese 951, in quella pordenonese 634 e nell'isontino 186. I totalmente guariti sono 1.421, mentre i clinicamente guariti 145. Si registrano 4 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 289, numero complessivo di morti da Covid-19. Trieste si conferma al territorio che sta pagando il prezzo più alto del contagio, con 153 vittime. Seguono Udine con 71, Pordenone con 61 e Gorizia con 4. Scendono a 11 pazienti in terapia intensiva, mentre ricoverati in altri reparti sono 109 e le persone in isolamento domiciliare 1050. Il vice governatore, Riccardo Riccardi, non si è soffermato oggi solo sui dati, ma ha annunciato anche che grazie agli oltre 1,7 milioni di euro donati da cittadini in prese del Friuli Venezia Giulia alla protezione civile regionale, saranno avviate due iniziative. In collaborazione con Insiel, prenderà il via un innovativo progetto di telemedicina rivolto alle persone affette da Covid-19, ovvero un sistema informatico che attraverso un kit composto da strumenti di rilevazione di parametri corporei e da un tablet consegnato a domicilio alle persone in isolamento, permetterà il monitoraggio a distanza e in tempo reale del loro stato di salute e trasmetterà i dati direttamente al sistema sanitario. Oltre a migliorare l'assistenza, l'iniziativa aumenterà il livello di sicurezza del personale sanitario. 400 mila euro della cifra complessiva serviranno poi a dotare agli enti locali e le forze dell'ordine di strumenti che attraverso l'immissione di ozono favoriscono la sanificazione degli ambienti di lavoro, delle strumentazioni e dei mezzi di servizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.